Il Movimento 5 Stelle, primo partito in regione nel paese, un risultato storico. Non possiamo che essere soddisfatti di questo grande risultato e della fiducia che ci hanno dato gli elettori. Evidentemente questo è il riconoscimento di lavoro di anni e anni sul territorio da parte di attivisti e consiglieri. Siamo il primo partito a livello nazionale e il primo anche in Emilia-Romagna, in una regione la nostra, che è notoriamente rossa e da oggi non lo è più.